Una candela della pace di 4 metri per 3 in materiale riciclato illuminerà il Natale di Pesaro nel cuore in un tour tra i quartieri partendo da Villa Ceccolini. Una serie di iniziative che avvolgeranno i cittadini scaldandoli con la magia del Natale dai primi giorni di dicembre fino all'Epifania. Sono i quartieri che si mettono a disposizione, lavorano come volontari e creano gli eventi anche durante il periodo natalizio. L'abbiamo visto quest'estate con i tanti eventi durante il periodo estivo, la stessa cosa stanno facendo con il Natale. Quindi abbiamo pensato appunto di presentare alla città tutti gli eventi che loro faranno all'interno dei loro quartieri. In più quest'anno ci sarà una candela, una candela che girerà in tutti i quartieri e una candela che punta alla pace e anche per l'efficientamento energetico perché comunque il risparmio energetico abbiamo appunto, sappiamo, le difficoltà che stanno passando tante famiglie e questo è un segnale che noi vogliamo dare alla città. Gli ringrazio tutti quanti di essere qua presenti oggi ma soprattutto ringrazio per tutto quello che fanno. Molti eventi da quello che mi hanno raccontato verranno fatti coinvolgendo le scuole, coinvolgendo le parrocchie e soprattutto si punta anche al riciclo, al riuso e oltre a dei temi che comunque riguardano anche i mercatini di Natale ma anche eventi che riguardano appunto la pace e tutte quelle situazioni o argomenti che ricadono appunto il momento che è il Natale. Grazie.